Ci sono tante sfaccettature di questa crisi così inaspettata e così devastante, nelle Marche in particolare abbiamo una fortissima esposizione in termini di export verso proprio i luoghi che sono stati sversati dalla guerra. Abbiamo un export superiore alla media italiana e da questo punto di vista anche la regione Marche sta cercando di fare del proprio meglio e far sì che si possano elenire gli effetti di un'invasione di cui veramente nessuno sentiva il bisogno. Una guerra quindi che ovviamente dobbiamo fare in modo che non si estenda a livello internazionale ma che in qualche misura è già mondiale. Mondiale proprio per l'affetto, la solidarietà che si è determinata in favore di chi ha aggredito sta cercando veramente di riproporre l'antica storia di Davide e Golia. Insomma speriamo di uscirne presto, l'Europa CEL, il Comitato delle Regioni dimostra ancora una volta quanto il livello istituzionale più vicino al cittadino possa unire testimonianza morale ad aiuto concreto.